Seguitemi. I Maya segnavano i loro luoghi sagri. Potremmo imbatterci in qualunque reperto. Hai sentito del tesoro di Akhtok? Il più grande dei tesori rimasti sepulti. Servirà a cambiare le nostre vite. La luna, la terra e il sole ti servono tutte e tre le pietre per poter trovare il tesoro. Quel tesoro deve stare in un museo. Ti cerca la polizia. Corri! Io penso alla signorina Ines! Polizia! Ehi! Addio! Guarda Ines, è una grande attrice. Che facciamo, Miguel? Andiamo a cercare le pietre. E poi mettiamo le mani su quel tesoro. Aiutami! Ops. Vediamo che cosa hanno in mente. Non manca tanto. Sbrigati, non ci rimane molto tempo. Qualcuno mi spiega che c***o sta succedendo nel mio museo. Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Grazie a tutti.